Finisce in parità, come nel precedente della stagione regolare giocato al Manzichi Apolin. I risvolti però questa volta sono quelli di una gara da dentro o fuori. Una sorride, l'altra no, si salva il Barletta per il miglior piazzamento conseguito al termine del campionato. Retrocede all'Unione Calcio Biceglie che saluta così l'eccellenza dopo tre anni di permanenza. Succede di tutto durante i 120 minuti del play-out, gara dalle forti emozioni vietate ai deboli di cuore, tra vantaggi, agganci, sorpassi e controsorpassi, sino all'equilibrio conclusivo che favorisce i padroni di casa, gli unici tra le contendenti, a poter contare su due risultati utili su tre. Primo quarto di gara dedicato alla fase di studio, punizione di laboraggine e colpo di testa impreciso di Varola, conclusione dalla parte opposta di Marco, il più giovane dei due Bartoli, che si perde sul fondo. E ancora, cross di Varola dalla sinistra, avvitamento di Sani, blocca amoroso, traversone dello stesso Marco Bartoli, incornata di Albano, para, maraglino, punizione di laboraggine, colpo di testa di Ola, impreciso, la prima vera occasione della partita del Barletta e arriva alla mezz'ora, Varola disegna per la testa di Sani, palla al lato di pochissimo, insiste la formazione di Franco 5, Varola, buonissimo alla sua prova, trova sulla sua strada il decisivo salvataggio sulla linea del giovane pallumbo. Poco dopo però i biancorossi passano in vantaggio, laboraggine pennella, Sani giganteggia nel gioco aereo ed insacca così alle spalle di amoroso. Replicano immediatamente gli uomini di Luca a Roma prima del riposo, ma sulla punizione insidiosa di Mastro Pasqua, prima replica a Varaglino, poi salva Ola, Barletta, avanti di un gol all'intervallo. La ripresa si apre con la chance del raddoppio. Il direttore di gara, Mastro Domenico Di Policoro, giudica da rigore questo contatto in area tra Palumbo e Sani. Dal dischetto però, laboraggine spreca tutto, calciando su amoroso. Dal possibile 2-0 all'1-1 passano soltanto 4 minuti. Mastro Pasqua indovina la stoccata dalla distanza che sorprende Maraglino e ristabilisce l'equilibrio. Fioccano le occasioni. Ronzino prima crossa per la testa di Tommassi che guadagna solo un corner, poi per quella di Sani. Mila imprecisa. Non sbaglia dalla parte opposta invece l'ex Mignogna che raccoglie il traversone di Bufi. E buca con il mancino Maraglino ad un quarto d'ora dal termine. Biscegliesi virtualmente salvi Barlettani momentaneamente retrocessi. Ci pensa però Ola tre minuti dopo sulla punizione di laboraggine. A rimettere in carreggiata i padroni di casa 2-2 e di nuova parità al Manzichi Apulin. In entrato Filanino ha subito la palla per l'immediato sorpasso, ma la spreca così da posizione favorevole. E prima del novantessimo Mignogna chiama Maraglino la deviazione in corner, poi sullo sviluppo dell'angolo il portiere del Barletta respinge la stoccata di Mastro Pasqua mentre il successivo gol viene annullato per una posizione irregolare. Si va così ai supplementari che si aprono con la conclusione debole e centrale di Grumo. Quest'ultimo poco dopo serve l'assist che Filanino classe 2000 trasforma nell'acuto del nuovo sorpasso. Primo centro per lui tra i senior non è ancora finita perché all'alba del secondo tempo supplementare è Mignogna su punizione a sorprendere un incerto Maraglino e a ridare speranze ai bicegliesi. 3-3 fuochi d'artificio al Manzichi Apulin. Può subito richiuderla Grumo, amoroso però replica il suo mancino degli ultimi dieci minuti. Ci prova l'Unione Calcio senza trovare il punto del ribaltone. Finisce in parità dunque. Festeggia il Barletta che resta in eccellenza dopo una stagione soffertissima. L'Unione Calcio invece deve sperare ora nel ripescaggio per tornare nel salotto buono del calcio pugliese.